Angela Lensbury, meglio conosciuta come Jessica Fletcher. Ben 95 candeline per lei Ormai è diventata una vera e propria icona, l'attrice inglese della signora in giallo gode ancora di ottima salute e festeggia i suoi 95 anni E se non credete ai visti occhi, alcune foto scattate proprio questa estate a Malibu mostrano una splendida donna di 95 anni nel pieno delle sue energie Angela Lensbury dal 1944, anno di debutto nel mondo del cinema, non ha fatto altro che collezionare successo dopo successo A esordio con il film Angoscia di George Cukor, che le permise di candidarsi alla nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista Punto da allora non ha mai smesso di scalare la vetta verso il successo, conquistando anno dopo anno il consenso del pubblico Appena un anno di carriera e già nel lontano 1945 ha conquistato il Golden Globe per il suo ruolo nel film Il ritratto di Dorian Gray Per poi proseguire con la Disney, pomidottone e manici di scopa e i Mary Poppins, per citarne alcuni Punto ad oggi si vantano ben 264 episodi per la signora in giallo, che dal 1996 non ha mai smesso di tenere compagnia al pubblico del piccolo schermo Sempre con accattivanti storie che solo Angel Lensbury avrebbe saputo risolvere nel panni della signora Jessica Fletcher E nonostante il tempo che passa, anche la tecnologia festeggia il successo nel web Continua a leggere dopo le foto. Infatti su Instagram è possibile trovare un account che celebra gli interni delle location degli episodi di Mardershiro L'ultima comparsa della Lensbury è avvenuta nel 2017, quando ha preso parte al cast della miniserie Piccole donne Sempre in forma e sorridente, la signora in giallo non ha mai smesso di fare del cinema la sua passione e siamo certi che il suo nome rimarrà impresso per sempre nella memoria di tutti Grazie per la visione!